Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Lacrime emozionate hanno bagnato gli occhi di Alfonso Signorini nel corso della trasmissione del Grande Fratello di lunedì 19 febbraio. Il presentatore è stato travolto dall'emozione durante la diretta, un momento toccante che ha coinvolto il pubblico di casa. Il motivo di questo momento di commozione? Stefano Miele, uno dei concorrenti, è finito in nomination. Tuttavia, la serata non prevedeva alcuna eliminazione attraverso il televoto. Invece, lo stilista ha avuto l'opportunità di rivedere e abbracciare sua madre, un gesto che ha profondamente colpito il cuore di Signorini. Prima di questo momento toccante, Stefano ha condiviso alcuni pensieri su un rapporto speciale con sua madre, una donna che ha significato tanto nella sua vita. Cresciuto a Gaeta, Stefano ha espresso gratitudine e ammirazione per la madre che lo ha sostenuto e amato incondizionatamente. Ha raccontato di come lei abbia affrontato la sua omosessualità con accettazione e amore, fornendogli il coraggio di essere se stesso. Il momento culminante della serata è stato quando la produzione ha portato la madre di Stefano nello studio del grande fratello, senza che lui lo sapesse. L'incontro ha emozionato profondamente sia il concorrente che Alfonso Signorini. Il presentatore, visibilmente commosso, ha condiviso la sua personale esperienza, sottolineando l'importanza e la speciale connessione tra madre e figlio. La scena ha dimostrato quanto sia prezioso il legame tra genitori e figli, e ha portato alle lacrime non solo dei protagonisti sul palco, ma anche di coloro che stavano guardando da casa. Tu che ne pensi di questo momento così commovente? Faccelo sapere nei commenti, e attiva la campanella per seguirci. Ciao e grazie.